Arianna, parlici di questo locale che è veramente una chicca per Porto Santerpito nella centralissima via Battisti, isola piedonale, che ovviamente si può godere fin dall'inizio assaggiando i vostri piatti, ma anche con una bella passeggiata in via Battisti. Questo locale nasce tre anni fa, nel settembre 2016, quando appunto io e mia madre abbiamo deciso di portare questo tipo di sushi, un po' diverso da quello tradizionale che magari siamo abituati a mangiare, in questa zona che era diciamo una zona dove un tipo di sushi come questo ancora non c'era. È un, dicevo anche prima, un sushi che piace a tutti, dai più piccoli fino alla gente anziana che magari non aveva mai provato prima. Questo perché facciamo molte cose con pesce cotto, usiamo anche la carne, ad esempio la picagna argentina, facciamo i roll con il pollo, facciamo roll per vegetariani, per vegani, per intolleranti al glutine e intolleranti al lattosio, quindi è per questo che le famiglie, le coppie, i gruppi di amici adorano venire qui e assaggiare, sperimentare sapori nuovi e piatti, insomma, diversi dal classico sushi orientale.